Lo spazio del sacro, opere di Elvis Padoni, a Recreativa 42 insieme alla città di Quernier, propone questo ciclo di opere di Elvis Padoni, l'artista è in residenza d'artista casatoesca dal 7 febbraio fino all'11 marzo e contemporaneamente ha allestito questo ciclo di opere e durante la mostra stessa, a partire da oggi, realizzerà un'opera di fronte all'Exaltare, un'opera che sarà completata al termine in finissage di mostra. In concomitenza alla mostra due sono gli eventi collaterali, venerdì 23 febbraio alle 21 nell'Ex Chiesa della Santissima Trinità avremo la presentazione del libro Sacro Contemporaneo con Michela Beatrice Ferri, l'autrice che è già stata ospite e ha parlato di questo tema sia nelle trasmissioni di Alberto Angela che è più volte invitata a discutere del tema dell'arte sacra contemporanea in diversi ambiti, naturalmente anche al Vaticano e dialogherà con Elvis Padoni sul tema sacro contemporaneo. Dopodiché il 4 marzo la giornata intera è dedicata ad incontrare l'artista, ci sarà un workshop fuori forma, il titolo, che comincerà il mattino e si prolungherà anche nel pomeriggio. Le iscrizioni possono essere fatte tramite il sito www.areacreativa42.com Questa mostra presenta una selezione di dipinti che ho realizzato negli ultimi anni che hanno come filo rosso, come si può evincere anche dal titolo, un rapporto con il tema del sacro da due punti di vista. Il primo è proprio di contenuto, infatti la maggior parte dei dipinti sono ripresentazioni in chiave moderne di pittura contemporanea, almeno questo è il mio tentativo, di episodi biblici, di storie che hanno anche un valore paradigmatico, come può essere una maternità, quindi Maria col bambino, oppure l'episodio di Davide che si prepara a sconfiggere Golia, o una riflessione sulla morte tramite l'episodio di Lazzaro, l'amico di Gesù che muore e che poi viene resuscitato. Ci sono anche, ad esempio, delle rappresentazioni di miti, che però vengono in qualche modo avvicinati all'ambiente del sacro e dell'aspetto anche più cristiano, diciamo, del messaggio. La seconda caratteristica che unisce questi quadri e che si unisce anche l'idea di sacro è un uso abbondante nelle mie composizioni dello spazio vuoto, dello spazio bianco, che si va così un po' a contrapporre all'uso della figura, che nella mia pittura è molto tradizionale. D'altro canto, però, questo vuoto, questo bianco, questa luce, rappresenta proprio una manifestazione del sacro nella pittura, non tramite la figurazione di elementi, appunto, antropomorfi della divinità, ma con questa sorta di spazio che si annulla, ma nell'annullarsi in qualche modo cerca di ribaltarsi nel suo posto. L'opera che andrò a realizzare durante la mostra sarà una grande tela su San Paolo, che viene appunto folgorato sulla via di Damasco, che è in realtà una ripresentazione di un mio vecchio dipinto che ha in qualche modo creato la cifra stilistica di questa serie, appunto, perché in questo quadro c'è questa luce che colpisce San Paolo, che diventa proprio l'elemento principale del quadro, che consta di questo grande spazio bianco. Questo è il secondo evento che l'amministrazione comunale di Quornier organizza in collaborazione con l'associazione Area Creativa 42 e con la sua presidentessa, Karen Rezoivà, della quale stiamo apprezzando davvero la serietà e la passione con la quale è stata allestita questa mostra. Dunque la mostra resterà aperta il sabato e la domenica, il sabato sia al mattino dalle 10 e mezzogiorno che il pomeriggio dalle 15 e 30 alle 18 e 30, mentre la domenica pomeriggio dalle 15 e 30 alle 18 e 30. Questa è un'avventura che durerà ben tre settimane e che da lunedì si arricchirà dei laboratori creativi rivolti ai ragazzi delle scuole. Verranno coinvolti i bambini della scuola primaria e i bambini della scuola materna di Quornier e delle frazioni. Molto apprezzato sarà sicuramente l'intervento degli studenti dell'indirizzo turistico del 25 aprile i quali interagiranno con l'artista Elvis Spadoni nella rappresentazione di quelli che sono i miti. Grazie a tutti.